Ale, 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 ale. Arezzo festeggia così la promozione in Serie C del cavallino che quest'anno festeggia anche i suoi cento anni. Prima la premiazione in consiglio comunale, poi la festa in Piazza della Libertà, diventata assieme alle scalinate del Duomo un fiume amaranto. Io ho detto se sto sognando non mi svegliate, però è la realtà, la realtà che va programmata. Io ho sempre detto festeggiamo, ora ci siamo divertiti a sufficienza, adesso stiamo già programmando il futuro. Quindi ringrazio tutti di tutto quello che ci stanno dando perché il cuore è pieno di gioia e dobbiamo continuare a programmare, ad investire nel giusto e far sì che il club cresca sempre di più e sempre più forte per levarci altre gioie che sicuramente arriveranno. I tifosi festeggiano la promozione ma anche la permanenza nella panchina a Maranto di Mister Indiani in un tripudio di bandiere che non aspettano altro che di tornare a sventolare nel prossimo campionato di Serie C. Questo è un momento bellissimo, un momento che mi rimarrà sempre nel cuore e porterò sempre a me. Con il numero dieci, Emiliano Pantanello! Con il numero undici, Mattia Gattini! Con il numero sedici, Simone Bravante! Con il numero diciannove, Raffaele Gattisani! E con il numero 28, Niccolò Gucci!